Le Nazioni Unite. Qualcosa che ci tocca da vicino tutti dunque. Qualcosa che ci rappresenta e testimonia in tutti i campi. Ma che cosa sono le Nazioni Unite? Cos'è l'ONU in realtà? Ecco il Palazzo di Vetro, famoso in tutto il mondo, che si erge a New York sulle rive del Hudson. Dietro la scintillante facciata, qual è la reale natura dell'organizzazione che riunisce quasi tutti i popoli della Terra e alla quale, nei momenti più difficili, si volgono le speranze di tutti gli uomini. Per conoscere l'ONU bisogna conoscere la sua storia e i suoi precedenti.